Bella a tutti ragazzi, sono Nico e Zik e ci troviamo ancora su For Honor per continuare la storia. Prima di questo però sigla. Bene, andiamo con il capitolo 2.2, Diplomazia vichinga. Presto, ben prima di quanto mi aspettassi, solo due capi clan rimasero a Valkenheim. Quel razziatore è una feroce assassina, Siv. Con tutti i sanguinari tenuti in ostaggio, lo scontro era inevitabile. Boh, quindi mi dovevo scontrare con Siv. È opera di Siv. Che gesto disumano. Anche tu hai strappato scalpi. È diverso. Certo, la tipica logica di vichinga. Cioè ancora non ci hanno visto questi. Micchia dei falchi proprio. Ci penso io, tranquillo. È come il guardiano questo qua. Fa tutto lui. Allora, aspetteremo il tuo segnale. Scaderno l'inferno. Bene. Cosa devo fare il furtivo io? Cosa stanno facendo qui? Fa del tuo marmello. Senti chi? Allora, cos'è questa storia qua? Bravra così, coniglio. Mi arrivi ancora in vita. Coniglio è mio. Non ho tempo per ricodarti. Bravi, bisogna di così avvicinare. No. Bene. Dov'è l'altro? Figlio di puttana. Sanguinari prigionieri. Dovevo liberarli. Non ho letto un cazzo, però vabbè. No. Arrivo, eh. Con calma. Ah. Cioè, non poteva liberarsi da solo, certo. Io con un calcio ho rotto tutto. Ok. Hai trovato dell'acciaio? Bene. Andiamo a liberare gli altri. Ah, sono arrivati anche i miei. Ok. King in gabbia. Intollerabile. Vabbè, scusa. Vorrò buttarlo giù io, niente. Ok. Mi arriva il corinpeta. Mi arriva il corinpeta. Mi arriva il corinpeta. Muore. Oh. Solo le 5. Ma questo da dove è arrivato? Mi arriva il corinpeta. No, volevo ucciderlo io. Maledetto. Ok. Ottimo. Già abbiamo finito. Sì. E lei? La conoscevo bene. Ah. Te la sei pompata? Sapevo che eri tu! Però non sembra male, dai. Non ci hanno visto o sì? Credo che sia il segnale. Bene. Ma... Devo andare? Di là. Bella raga. Vabbè, aspettate. Che cazzo? In teoria dovrei essere io il comandante. Come distruggiamo il canciallo lì? Ah, vengono loro. Ora, iniziamo il vero scontro. Eh, sono un po' troppiii... Mabbettate. Che arriva il corinpeta! Che c'è la sorella! Ehi, sono belli! Che c'è l'unico solo spazio! Ah, l'ha parlato, sto bazzardo! No, no, no! No, no! Sì, sì, sì... Eh, dai, però... Lasciate almeno qualcuno! Dai, via, piccoletti! Allora... Ci togliamo? Già. Eccola! Eh, è dell'aggressiva questa. Graziatore! Eh, minchia, che tutti conigli, eh! Dove cazzo sono io? Graziatore! Ho capito... Da tempo arrivo, no? Allora... Che ci fai tu in mezzo ai sanguinari? Chiodi la bocca! Conversazioni, quelle belle! Ah, minchia! Ma hai aveva i numeri. Ma i sanguinari avevano lì! Che arrivi a fare! Che grande guerriera mai esistita! Ok, lo schema d'attacco è sempre questo! Dovrei riuscire ad anticiparlo la prossima volta! Ok Ma davvero così facile Dai tu Mi aspettavo che è più difficile Ma quindi l'ho ammazzata Ho di liberare gli altri sanguinari Stiganger Perché ci hai messo tanto? Sai quanti vichinghi ce l'hanno con te? Questa è bella croccia Grazie, guerriero Non deludermi, Jarl Cazzorini Sì, mi piaci Bene Si inizia l'avanzata contro polione, ragazzi Era ora di riprenderci ciò che era nostro Sì Vai cazzo Bene ragazzi, anche per questa volta è tutto Se vi è piaciuto il video lasciate mi piace Iscrivetevi al canale E ci vediamo ad un prossimo video Ciao 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 Tin Piedziano Grazie a tutti.